Voi che siete nel Parlamento, non chiamate anche la vostra base elettorale? Noi abbiamo già una manifestazione in preparazione per il sabato 28 febbraio. Siccome Roma è lontano, noi ci stiamo preparando per il 28 febbraio, per nuove elezioni. Ma domani viene il popolo libero? Non c'è qua, non c'è qua, non c'è qua, domani c'è qua, domani c'è qua. Un miracolo che non riesco a fare. Ciao, devo tornare dentro. Mi date mezz'ora. Matteo, io sono scelto due giorni che sto qui. Salvini, mi sono scelto.